La querelle sull'eventuale accorpamento del liceo classico Vincenzo Sgerace di Cittanova non si ferma in vista del consiglio metropolitano che dovrà svolgersi domani a Reggio Calabria ed è la proposta che porterà in seno all'organismo metropolitano il sindaco Francesco Cosentino. Le opposizioni dentro e fuori il palazzo municipale si scatenano, due comunicati di fuoco, il primo quello di Fratelli d'Italia e Forza Italia, non rappresentati in consiglio, il secondo quello del gruppo consigliare che fa riferimento all'ex sindaco Alessandro Cannatà. Entrambi esprimono la gravità della delibera incriminata alla numero 153 del 28 settembre scorso approvata dalla Giunta in cui al terzo punto, dopo aver rivendicato l'autonomia del liceo Gerace e un non possibile accorpamento con l'istituto comprensivo Luigi Chitti di Cittanova, si ipotizza l'accorpamento con un altro istituto superiore anche di ordine diverso, si legge nella delibera tenendo conto dei collegamenti viari, dell'omogeneità territoriale e delle vocazioni socio-economiche dei comuni interessati. Il pensiero va all'istituto tecnico Gemelli Careri di Taurianova, anche se non viene citato mai. Il disegno di accorpamento viene esplicitamente citato con un'analoga delibera dall'Aggiunta taurianovese del sindaco Scionti. E sul consiglio metropolitano di venerdì prossimo i partiti del centrodestra ironizzano ironizzano parlando del sindaco come di un prestigiatore che il giorno della riunione a Reggio promette di tirar fuori dal cappello la colomba e forse metterci davanti all'ennesima delusione. In ogni caso, in attesa che la magia del cappello si compia, rileggendo le linee guida regionali per il quinquennio 2017-2023, scrivono i due partiti, ci viene da fantasticare ed è probabile che l'unica possibilità di tirar fuori la colomba dal cappello consiste, affermano Forza Italia e Fratelli d'Italia, nel proporre, anche se in ritardo, le due ultime possibilità che le linee di cui sopra consentano per mantenere l'autonomia scolastica, ovvero citano la normativa, ossia per le istituzioni scolastiche, site in comuni montani, ovvero dove siano presenti minoranze linguistiche, oppure solo in casi eccezionali e nelle località che si trovano in condizioni di particolare isolamento. Un trucchetto di magia bacchettano duramente i due partiti di centrodestra, al quale forse avrebbe dovuto ricorrere prima e riparando dal danno cagionato, mentre il gruppo consigliare per Cittanova, in vista della citata riunione di venerdì, invita l'amministrazione Cosentino a cassare la possibilità di un accorpamento con istituti di altri comuni e va chiesto, scrivono i consiglieri, a chiare note ed in maniera altrettanto esplicita, che se di accorpamento deve trattarsi, questo deve essere fatto tra licei di Cittanova.